Riprendiamo questo esercizio della classe quadrato. Io vi ho fatto vedere che quando ci sono più metodi all'interno della stessa classe che condividono delle variabili, quindi condividono della memoria, si scambiano informazioni attraverso la condivisione della memoria, è necessario dichiarare queste variabili esternamente ai metodi e per farciò bisogna utilizzare una particolare parola chiave che è appunto static. Ho anche detto in precedenza che queste variabili sono variabili globali a livello di classe, cioè accessibili da tutti i metodi presenti all'interno della classe. In realtà queste variabili vengono dette semplicemente variabili di classe, quindi si toglie il termine globali. Una cosa che manca è ancora questa parola chiave davanti alla dichiarazione private. Ora non sono in grado di spiegarlo in maniera chiara in questo momento, perché vedremo il significato effettivo di private e public parlando poi di programmazione e oggetti pura, però possiamo pensare che queste variabili sono private nel senso che dall'esterno non è possibile effettuare nessun accesso né in lettura, tantomeno in scrittura. In precedenza vi avevo detto che consentire la condivisione di variabili da parte di più metodi non è proprio una scelta opportuna, quindi se si può limitare o evitare del tutto è preferibile. E allora adesso il passaggio successivo sarà proprio quello di vedere come possiamo agire in tal senso. Intanto iniziamo a considerare questo metodo CalcolaArea. Allora CalcolaArea effettua un'operazione e assegna il risultato alla variabile area. In realtà io potrei invece di andare a fare, diciamo, assegnare questo risultato alla variabile area, sostituire questa assegnazione con un'istruzione return. Questo significa che il valore calcolato viene restituito al chiamante. Ma chi è il chiamante? Il chiamante è il metodo main. Bisogna però cambiare alcune cose. Allora prima di tutto questo metodo non restituisce più un valore void perché quando c'è un'istruzione return con un valore restituito bisogna andare a indicare il tipo del valore restituito. Siccome lato è una variabile double è ovvio che il tipo restituito sarà double. Quindi inizio a sostituire void con double. Nel metodo main, invece di semplicemente scrivere CalcolaArea per non perdere questo valore che viene restituito devo andare a fare un'assegnazione. Quindi qui dovrò scrivere area uguale CalcolaArea. A questo punto possiamo notare che il metodo CalcolaArea non utilizza più la variabile area. Pertanto questa variabile può essere dichiarata localmente al main. Quindi vado a dichiarare la variabile area all'interno del main. e posso cancellarla da questa dichiarazione. Quindi utilizzando un'istruzione return quindi trasformando un metodo che restituisce void in un metodo che restituisce un dato valore ho potuto eliminare una variabile di classe trasformandola in una variabile locale al metodo main. Ora cerchiamo di capire come andare a eliminare il lato da queste variabili di classe utilizzando il passaggio di parametri. Allora osserviamo che la variabile lato viene acquisita in input dal metodo main. Quindi se io avessi un modo per quando richiamo CalcolaArea per passare il valore del lato al metodo avrei risolto il problema. E questa possibilità c'è ed è offerta proprio dall'utilizzo di parametri. Cosa significa? Significa che quando io richiamo il metodo CalcolaArea tra le parentesi tonde specifico il valore del lato quindi vado a inserire la variabile lato tra le parentesi tonde. Questo si chiama parametro attuale ed è corrisponde ad una variabile che ha un determinato valore. Ora lasciate perdere l'errore l'errore viene segnalato perché devo ancora fare delle ulteriori modifiche dove devo fare una modifica qui perché se richiamo il metodo CalcolaArea passando un parametro significa che quando dichiaro CalcolaArea devo specificare che questo metodo ha un parametro. La differenza è che qui non vado a mettere un valore ma vado a fare una dichiarazione di variabile. Qual è il valore che viene passato cioè il tipo di valore passato è sempre un double quindi dovrò scrivere il tipo seguito poi dal nome di una variabile che potrebbe essere un nome qualunque anche x per esempio però per limitare il numero di nomi di variabili diverse usiamo sempre lo stesso nome lato. Questo non è un valore questa è una vera e propria variabile che è assimilabile ad una variabile locale al metodo CalcolaArea e che si chiama parametro formale. un metodo può avere più parametri formali separati da virgole ogni parametro deve però essere avere anche il tipo quindi tra le parentesi del metodo abbiamo in realtà una serie di dichiarazioni di variabili separate da virgole. Quindi che cosa succede? Che il calcolo lato per lato viene fatto utilizzando questa variabile che non è più la variabile lato dichiarata qui ma è come se fosse stata dichiarata come una variabile locale nel metodo CalcolaArea cioè come se fosse stata dichiarata dentro il metodo CalcolaArea. Invece quando chiamiamo il metodo CalcolaArea passiamo un ben determinato valore in maniera diciamo può essere un valore costante oppure come in questo caso una variabile che contiene un dato valore che abbiamo acquisito in input. Questa operazione che stiamo facendo si chiama passaggio di parametri quando il metodo CalcolaArea viene richiamato il valore della variabile lato viene copiato dentro alla variabile al parametro lato questa operazione si chiama passaggio di parametri per valore perché viene fatta proprio la copia del valore del parametro attuale dentro al parametro formale nel caso ci siano più parametri bisogna fare attenzione al fatto che la copia viene fatta rispettando la posizione dei parametri ossia il primo parametro attuale viene copiato dentro il primo parametro formale il secondo parametro attuale nel secondo parametro formale inoltre oltre a esserci una corrispondenza posizionale ci deve essere anche una corrispondenza di tipo quindi il parametro formale e il parametro attuale devono corrispondere nel tipo di dato la variabile ha un certo tipo e il valore che passiamo deve essere dello stesso tipo di un tipo compatibile quando dico tipo compatibile mi riferisco per esempio al fatto che questa variabile potrebbe anche contenere un valore intero in quanto un valore intero può certamente essere contenuto all'interno di una variabile double dopo aver fatto questa operazione quindi dopo aver definito i parametri vediamo che questa variabile lato in realtà possiamo toglierla dalle variabili di classe e dichiararla come locale al metodo main perché calcolaarea non la usa più calcolaarea usa una variabile lato che in realtà è però una variabile locale al metodo stesso vi posso far vedere infatti che cambiando il nome questo è più chiaro certamente quindi usando come nome del parametro x è più chiaro che non stiamo lavorando con la variabile lato all'interno di calcolare però ripeto convenzionalmente usiamo gli stessi nomi proprio per non andare a creare troppi nomi diversi che diventa poi anche difficile gestirli detto ciò allora la variabile lato può essere dichiarata come variabile locale al main perché è solo il main che utilizza questa variabile e può essere tolta dalle variabili di classe ecco utilizzando quindi l'istruzione retom e quindi facendo uso di metodi che restituiscono con un valore e utilizzando il passaggio di parametri posso eliminare completamente l'utilizzo la necessità di utilizzare variabili di classe cioè variabili condivise l'istruzione l'istruzione